Tema molto importante perché adesso andiamo a vedere tante tante attività che rientrano all'interno del piano marketing che abbiamo messo in una slide che però è la slide finale nel senso che adesso vi accompagno a fare un percorso che comprende tutti gli strumenti di marketing che un'azienda dovrebbe utilizzare. Due punti fondamentali. Vedremo tante cose. Perché vedremo tante cose? Perché il risultato dipende da tutti questi elementi. Cioè il marketing oggi non è fare la campagna sponsorizzata su Facebook, non è fare Google, non è fare direct marketing. Marketing vuol dire fare tante cose. È come fosse un puzzle. Se io le faccio tutte sono molto più forti ovviamente rispetto a farne una soltanto. Quindi il risultato che io riesco a portare a casa lo tengo se faccio il maggior numero possibile di queste attività. Le aziende più forti fanno tutte queste cose che vedremo adesso. Quindi primo punto, tante cose perché? Perché il marketing è un puzzle con tante attività da fare. Secondo punto importante. Chi magari non fa tante di queste attività, vedendole tutte potrebbe dire caspita, qua sono troppo distante. Non c'è problema. Nessuno ha iniziato facendole tutte. Qualcuno non le fa tutte. Però si è messo l'obiettivo di iniziare a farne intanto alcune. quelle magari che vede più semplici da applicare. Ma mentalmente ha capito che deve iniziare un percorso. E il percorso è quello di riuscire a fare tutte le cose che vedremo adesso. Quindi l'obiettivo di questo intervento è mostrarvi, se vogliamo, la complessità del marketing. Ma la complessità non deve essere vista come un aspetto negativo. quanto come un concetto che ti fa capire che è un mondo molto strutturato. Non è la singola attività. Ecco perché ieri ha una domanda che mi è stata fatta. A cosa bisogna fare molta attenzione oggi? A chi ti vende fumo? Perché c'è un sacco di gente che ti fa pensare erroneamente che il marketing sia qualcosa che due secondi, via, raddoppio il fatturato. Non è così. Non è così. Ve lo diciamo noi, ma non perché in 25 anni l'abbiamo capito. Non esiste nulla che ti faccia svoltare dall'oggi al domani. Il marketing è fatica, il marketing è test, il marketing è investimento. Il marketing è un costante cambiare. Noi siamo ogni giorno, io e Andrea, che cambiamo, ma anche nel breve. Il marketing è velocità di cambiamento. Noi implementiamo una campagna, dopo un giorno vediamo che non gira, già la cambiamo. È chiaro che noi siamo abituati a fare questo tipo di attività. Però ecco, questi sono i messaggi giusti. A volte quando io parlo così, mi ricordo, io non sono di base un venditore, però quando parlo con certi nostri clienti io do questi messaggi qua. Guarda che lungo, è difficile, è complesso. E quelli mi dicono, guarda che va bene l'onestà, però se devi vendere marketing e hai questo tipo di approccio, non va bene. Ma perché è vero? È inutile dirti, guarda, investi qualche euro su Google e vedrai, ti arrivano i clienti. Non è così. Quindi andiamo a vedere ora in che cosa consiste un piano marketing nel B2B. Noi operiamo in questo contesto e quindi prendiamo un esempio di un piano marketing di un'impresa che vende ad altre imprese. Primo punto fondamentale che prevede anche quello che ha detto Andrea. Posizionamento. Come mi posiziono io nel mercato? Andrea ha fatto degli esempi di un posizionamento premium. Quindi questo è il primo punto. Primo punto, cioè non pensiamo a fare attività di lead generation se non abbiamo smarcato questo punto. Partiamo da un concetto importante. La focalizzazione è il primo punto sul quale noi dobbiamo lavorare. Non essere tutto per tutti. Stringiamo il nostro raggio d'azione. Nella slide che avete visto prima era stato usato il termine nicchia. Ok, io devo identificare il target giusto per me, quindi mi devo focalizzare. Non posso essere tutto per tutti. Quindi primo punto, focus. Attenzione che se io ho prodotti diversi per target diversi, non vi sto dicendo non vendere più il 90% di quello che vendi, prendi una cosa e vendi solo quella. Ti sto dicendo eventualmente lavora con i brand. Avevamo citato ieri per chi c'era l'esempio degli amici della Farone, brand diversi, prodotti diversi, con dei nomi diversi. Quindi io posso avere anche un'offerta ampia. L'importante è che io non metta sotto lo stesso cappello n brand. Io devo lavorare prendendo un singolo brand, focalizzandolo su un target. Altro singolo brand lo focalizzo su un altro target. Questo è il concetto. Mi ricordo che mi sembra nel 2000, non mi ricordo se lo scorso anno o due anni fa, avevo portato l'esempio della Colgate o Colgate, dentifricio, dove ha fatto la lasagna con lo stesso brand. Voi comprereste al supermercato una lasagna della Colgate o Colgate? Difficile. Quindi se tu vuoi rivolgerti ad un target diverso, devi lavorare con un brand diverso. È chiaro questo concetto? Quindi è molto importante lavorare con i brand. Il concetto che abbiamo espresso un attimino prima, se io mi focalizzo, automaticamente vengo percepito come uno specialista. Il generalista difficilmente riesce ad essere percepito come uno specialista. Abbiamo fatto l'esempio del medico, si fanno gli esempi dei ristoranti. Quindi io devo lavorare per essere percepito uno specialista nel fare qualcosa. È evidente che non posso essere agli occhi del mio cliente potenziale, essere percepito come uno specialista se vendo a lui, ma vendo anche adenne aziende diverse, completamente diverse da lui. Perché io devo dire, guarda che ti conosco molto bene, so quali sono i tuoi problemi. Io sono specializzato in questo, di mestiere risolvo quei problemi, non chiedermi altro, perché altro non lo so fare. Quindi capite che sono tutti concetti collegati. La focalizzazione è fondamentale, perché fa emergere la specializzazione. Oggi, oggi, tutti noi, da chi preferiamo andare, se ho un'esigenza specifica, se ho un problema, se ho un desiderio da soddisfare, da chi oltre a quel desiderio, a quel problema, ne risolve mille altri completamente diversi, o da chi si presenta come colui il quale si occupa di fare solo questo. Io sono bravo in questo concetto, non chiedermi altro. Quindi la specializzazione oggi è quello che ogni azienda nostra deve far emergere. concetto che abbiamo già espresso, differenziazione, quindi siamo su una parte strategica. Cioè capite che quando qualcuno vi vuole far pensare, vi vuole far credere che oggi mandi le mail, vendi a chiunque, fai la campagna su Google, vendi a chiunque, era dopo il fatturato, se non abbiamo smarcato questi punti qua, cioè siamo in una fase precedente, cioè il marketing è fatto di come se fosse come dire un alfabeto, quindi prima c'è la lettera A, poi la B, poi la C, la generazione di lead, che tutti noi vogliamo generare dei lead, tutti noi vogliamo opportunità, però il problema che si fa è come faccio a generare delle opportunità, come faccio a generare dei lead, prima di porti questa domanda devi dire sono focalizzato, sono specializzato, sono diverso, sono unico, quando la risposta è sì, allora dico benissimo, smarcato questo punto, come faccio a generare dei lead, quindi c'è un ordine conseguenziale quando si fa marketing, inutile, ieri Placido ci ha parlato di video, ma inutile iniziare a fare i video se non ho niente di diverso dagli altri da dover raccontare, prima mi devo focalizzare, mi specializzo, ok, sono l'esperto delle turbine per gli impianti industriali, sono focalizzato, sono specializzato, lavoro e comunico con i video, tra un attimo verrà a parlarci di LinkedIn, di social network, Enrico, ma prima devo capire chi sono, cosa posso raccontare, cosa posso raccontare di diverso e unico al mondo, poi inizierò a lavorare con i social network, quindi, questo punto è un punto molto importante, capito questo, quindi si entra nel mondo della strategia, ok, quindi ho il mio posizionamento, quindi come faccio ad entrare in un mercato, come faccio ad acquisire delle nuove opportunità, adesso possiamo iniziare a fare questo ragionamento, non prima, invece, a volte l'imprenditore inverte l'ordine delle cose, cioè vuole subito acquisire clienti, che ovviamente va bene, quando non ha smarcato, però, un punto fondamentale, che è il punto del posizionamento, tutto parte da qui, sono diverso, sono unico, bene, poi inizio a pensare alle strategie d'ingresso, quindi, tutte le nostre aziende dovrebbero avere un frontend, che ti aiuta ad acquisire dei clienti, quindi, il frontend, che cos'è? Ognuno di voi deve trovarlo, è quel prodotto, quel servizio, quel check up, quella consulenza, che non rappresenta il vostro core business, però, vi fa acquisire il cliente, poi quando l'avete acquisito, poi, vi andate a vendere, quello che rappresenta il vostro core business, è molto più semplice acquisire clienti, se è un frontend, non sto dicendo che serva sempre, però devo averlo, mentre di solito le aziende tendono a proporsi al mercato con quello che è il loro core business, allora, se io vendo un impianto industriale, non devo propormi al mercato immediatamente, proponendo il mio impianto industriale, per carità, devo poterlo fare, perché magari qualcuno è pronto subito a fare l'investimento, ma c'è una fetta di aziende che non è già pronta a fare l'investimento, quindi io devo fare un percorso fatto di step, lo acquisisco con un frontend, intanto lui mi conosce, acquisisce fiducia, e poi gli vendo quello che rappresenta il mio core business, quindi il frontend è fondamentale perché molte volte è lo strumento che mi aiuta ad avviare una prima collaborazione con il mio cliente, adesso non ci soffermiamo troppo nel dire posso acquisire i clienti in perdita, non in perdita, il messaggio che vi deve arrivare è se io vendo qualsiasi tipo di prodotto o servizio e mi propongo al mercato sempre e solo con quel prodotto, sto perdendo delle opportunità, perché c'è una fetta di clienti potenziali che non sono già pronte ad acquistare il mio prodotto, potrebbero acquistare qualcosa di diverso, intanto però lo acquisisco il cliente col frontend, poi facendo delle attività di marketing gli vendo quello che rappresenta il mio core business, quindi questo è un aspetto fondamentale, strategie di upsell, quante aziende le hanno, queste sono tutte cose che alla fine dell'anno se applicate con metodo possono fare anche la differenza, abbiamo parlato anche durante la masterclass di strategie di upsell, quindi il prodotto che io vendo devo averlo anche nella versione premium, anche nella versione che costa di più, anche nella versione che ha maggior garanzie, anche nella versione che ti dà degli elementi in più, migliorativi, te la devo proporre sempre, quindi se io ho un prodotto ci faccio la versione premium, quando tu vuoi comprare quel prodotto io ti dico lo sai che esiste la versione anche premium di questo prodotto che te lo consegna in meno tempo, che ti fa risparmiare ancora più tempo, che ha queste garanzie in più, ti costa di più, ma ha dei vantaggi in più, su 100 persone che comprerebbero il mio prodotto nella versione standard, se io faccio l'esercizio di proporre sempre la versione premium, un X% comprerà sempre la versione premium, c'è una fetta di persone che di default vuole, se c'è, la versione premium di un prodotto, sforzo per voi, quasi zero, costruire questa versione premium e fare l'esercizio di proporla sempre, quindi io ti vendo un prodotto e ti dico, lo sai che c'è la versione che si chiama in questo modo la versione premium che ti dà una garanzia aggiuntiva, ti costa l'X% in più, quindi a parità di transazioni alla fine dell'anno, una fetta di queste transazioni saranno andate nella soluzione in upsell del mio prodotto, allo stesso modo accennato ieri, devo fare costantemente attività di cross-sell, cioè molte aziende qui offrono diversi prodotti e servizi che potenzialmente possono andare bene al nostro cliente, quindi se io vendo il prodotto A al cliente 1, devo capire se ho una strategia per riuscire a vendere il prodotto B sempre a quel cliente l'A, quindi cerco di vendere tutti i prodotti possibili al mio cliente, il mio cliente ha comprato un prodotto, come faccio a vendergli l'altro? Che strategia ho? Perché anche qui l'abbiamo accennato ieri, vendere ad un cliente già acquisito è molto più semplice, mentre noi siamo abituati a vedere il marketing come quell'attività che mi porta a casa il primo cliente, quando l'ho acquisito, quando ho venduto una volta, io il marketing me lo dimentico, mentre in realtà dovrebbe andare avanti ancora dopo, con strategie per esempio di cross-sell, cioè io devo costantemente sollecitare il mio cliente, il mio cliente chi già ha aperto il portafoglio, devo costantemente sollecitarlo nel proporgli quel qualcosa che io ritengo possa essergli utile, partiamo sempre dal proposto che noi stiamo cercando di risolvere dei problemi al nostro cliente, c'è qualche prodotto che lui potrebbe comprare ma che non è a conoscenza, noi spesso alcune aziende ci dicono ah caspita ma il mio cliente nemmeno sapeva che vendevo sta roba qua e è andato da un altro, ah ma io non sapevo che offrivi anche questo, se io non ho una strategia che preveda questo può capitare addirittura che un cliente vada dalla concorrenza per comprare un prodotto che magari offri anche tu ma lui non sapeva che tu offri il prodotto e cosa ottieni come risultato? Che apri una porta alla concorrenza ed è un peccato, quindi ho una strategia che faccia in modo tale che il mio cliente compri tutto quello che può comprare da me che gli possa essere utile, abbonamenti, questo è un altro punto importante, ho la possibilità di vendere qualche mio prodotto, non tutti in una modalità di abbonamento? Se sì, fatelo, è molto più semplice, l'abbiamo detto ieri, non devo ogni volta fare una trattativa per fare il rinnovo, ho una, attenzione che in alcuni casi non è applicabile, ma in alcuni casi magari dici, beh guarda, nel mio prodotto di punta no, però c'è questo prodotto qua che in realtà potrei venderlo in abbonamento, è una manutenzione costante che io gli faccio, che gli propongo, quindi lì la differenza dove sta è che il cliente mi dirà a lui quando non vuole più il servizio, io vendo una volta e vado avanti all'infinito. Il concetto di dare di più, l'over deliver che Walter spesso ci ha accennato, cioè dare di più ragazzi oggi non ci si può limitare a fare il compitino, cioè come posso sorprendere il mio cliente, ma cose anche semplici, cose banali, abbiamo fatto un sacco di esempi nella masterclass, tonnellate di cose, mando la lettera che non si aspettava, mando un ringraziamento, mando un gadget, gli do un buono, cioè cose piccole, copiate anche dagli altri settori, ieri abbiamo citato la Pixar, acquisti, ti danno il buono, piccole cose, sono a volte piccole cose dall'alto valore percepito, quindi non vi sto dicendo di fare quel qualcosa che dite, aspetta mi stai chiedendo di fare una cosa, non ho i margini, è un casino, piccole cose, il marketing è fatto anche di percezione, ne abbiamo parlato ieri, ma cosa vi costa mandare una lettera di ringraziamento al cliente, firmata, non dico scritta a mano che lì magari, però una bella lettera di ringraziamento quando il cliente è stato acquisito, cosa costa? Il costo della busta, una lettera è sempre quella, però un cliente non è poco, non tutti lo fanno, quindi trovate quelle piccole cose per cercare di dare di più, stupire, è prevista la consegna in dieci giorni, te la consegno in cinque e valorizzo questa roba qua, guarda qua, abbiamo consegnato prima, facciamo l'impossibile per cercare di fare sempre di più, quindi piccole cose che possono fare grande differenza, il marketing è fatto anche di sottigliezze, però cose molto concrete, ok? Referra il marketing fondamentale, ho una strategia affinché il mio cliente mi segnali, si faccia portavoce della mia azienda per segnalarmi qualcuno che potrebbe essere interessato nel mio prodotto? Torno a quello che ho detto all'inizio di questo intervento, attenzione che non devo adesso pensare a fare tutta sta roba qua, ma magari parto da una, perché magari dice caspita, però lo sai che fare la versione premium del mio prodotto nel mio caso è fattibile, non è complesso, bene, parto intanto da quella. L'importante, anche quando facciamo questi eventi, non è far tutto, ma magari partire da nel fare intanto una cosa, faccio una, quella che vedo magari anche più semplice da fare, e poi quando vedo che quelle attività mi ha dato il risultato, sono anche più incentivato a fare le altre, mentre se io inizio a dover, come dire, pensare di dover far tutto, rischio di spaventarmi, perché vedo una montagna magari troppo alta, quindi fate qualcosa, intanto, quello che vedete più semplice, e vedrete che poi quando il risultato arriva che dice caspita, quest'anno qua ho proposto sempre la versione premium del mio prodotto, e ho visto che effettivamente cinque clienti l'hanno acquistata, sforzo in termini di investimento quasi nullo, perché i commerciali semplicemente hanno proposto la versione premium, ho venduto, ho fatturato di più, ho marginato magari bene, sta roba funziona, benissimo, ho smarcata una via, andiamo sulla seconda. Co-marketing, posso trovare qualcuno con il quale possa condividere delle attività di marketing, clienti, sono clienti di tutti, il cliente non è solo cliente mio, c'è qualcun altro che ha già acquisito il cliente, posso fare sinergia, possiamo condividere delle attività? Poi, PR è ufficio stampa, molto importante, cosa vuol dire PR è ufficio stampa? Se voi andate su Google e fate una ricerca e digitate il nome della vostra azienda, ci sono articoli che parlano della vostra azienda, che parlano di voi? Guardate che il cliente potenziale fa questo esercizio qui prima di incontrarvi, va su Google, cerca e vede cosa trova, se non trova nulla, malissimo, se trova il vostro sito web, malino, se trova articoli che parlano della vostra azienda, bene, perché percepisce che siete autorevoli. Ho una strategia che punti a fine anno di avere una bella rassegna stampa? Perché ovviamente le persone non parlano, le persone intendo i giornalisti, non parlano di voi se voi non vi fate sentire, dovete avere una strategia. Guardate che questo fa grandissima differenza, oggi tutte le persone vanno online prima di incontrare voi, prima di incontrare i vostri commerciali, cercano informazioni, guardano chi sono, vanno su LinkedIn, quindi mi raccomando dovete avere una strategia che faccia sì che ci siano terze parti che parlino di voi. poi comunicazione online. Abbiamo parlato prima, in realtà ieri, di quanto importante sia la comunicazione online. Il blog, per alzata di mano velocemente, quante aziende hanno un blog? Quante aziende di queste il blog lo alimentano con contenuti costantemente? qualcuno ha fatto così, il blog è importante, strumento che oggi funziona per un sacco di robe, per la lead generation, per l'autorevolezza, poche aziende lo utilizzano, devo avere un blog. Siti web, non ci soffermiamo molto, ma è una parte fondamentale, Placido ieri ci ha detto quanto importante oggi sia comunque avere un sito web, ok? Quindi è importante avere il sito web. social network, qui lo accenno perché poi passo palla ad Enrico che ci parlerà dei social network, quindi vado avanti. YouTube, video, sempre ieri Placido ci ha parlato di YouTube. Ragazzi, sapete che YouTube è il secondo motore di ricerca dopo Google? Sapete che le persone dopo aver cercato su Google si mettono e cercano informazioni su di voi su YouTube? Ci siete su YouTube? Producete video costantemente? Per quello io dico, qui non si tratta di dire mi piace o non mi piace. Qua si tratta di dire dati di fatto. Le persone cercano su Google e poi cercano su YouTube. A te la scelta. Puoi decidere tranquillamente di dire a me YouTube non piace, non voglio starci. Benissimo, l'importante è essere consapevoli che le persone li ti cercano e se trovano il tuo concorrente e non trovano te, molto semplicemente non verranno da te ma andranno nel concorrente. L'importante è essere consapevoli. La vita è fatta di scelte. Io, se fossi un imprenditore, beh, se è un dato di fatto che le persone cercano su YouTube vedo di esserci. Ok? Webinar. Da quando è successo questo patatrack negli ultimi anni finalmente le persone iniziano a fare i webinar. Finalmente. Strumento che esiste da un sacco di tempo. vogliamo iniziare a fare un webinar? Vogliamo fare un palinsesto il prossimo anno dove iniziamo a fare sei webinar in un anno? Non sto dicendo sessanta, non sto dicendo di farne duecento come ha fatto Walter. Sto dicendo intanto poniamoci un obiettivo piccolo. Ogni due mesi faccio un webinar. Poi quel webinar lo confeziono e diventa un frontend per il mio cliente potenziale. Perché il mio cliente potenziale prima di comprare da me magari vuole vedersi dei webinar e io acquisisco la fiducia del mio cliente grazie ai webinar. Dopo gli invento gli vendo l'impianto industriale da milioni di euro. I podcast che adesso quanti hanno un podcast? Quanti hanno un podcast? Uno mi pare che siamo della stessa baracca però quindi sempre uno cioè ragazzi male 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 e poi i podcast vi faccio un esempio i video che voi fate se sono video di mezz'ora quello là diventa automaticamente un podcast oggi non c'è nemmeno la scusa del tema non c'è il tempo non c'è il modo fatti i tuoi webinar e dal webinar ottieni il tuo podcast oggi la comunicazione auditiva sta iniziando a crescere le newsletter sono fondamentali avete un palinsesto di newsletter che alimenta costantemente gli indirizzi mail di tutti i clienti potenziali che oggi non sono pronti a comprare da voi ma come fate a pensare che un cliente che oggi vi dice no vi dica sì tra tre mesi o piuttosto che tra tre anni se non lo vado costantemente ad alimentare con un piano di newsletter è impossibile non si ricorderà mai di voi quindi qui non si tratta di dire mi piace o non mi piace bisogna essere consapevoli tu fai un sacco di attività di marketing che portano come sempre ad avere la stragrande maggioranza di aziende che ti dice no non compro da te fa parte dei giochi altrimenti sarebbe tutto semplice quindi pochi oggi sono pronti a comprare da me io oggi voglio vendere il mio cliente potenziale oggi non vuole comprare questo fa parte di giochi di tutti i settori di tutti i contesti io voglio vendere lui non vuole comprare benissimo se io alimento con un piano di newsletter quel cliente che oggi mi ha detto di no domani mattina mi dirà di sì me lo dirà solo ed esclusivamente se io avrò costantemente è mandato dei contenuti a lui altrimenti lui di me non si ricorda è bombardato di messaggi figuriamoci si ricorda di me poi abbiamo la parte di comunicazione offline ieri abbiamo fatto quel bel esercizio abbiamo sniffato un po' di carta di odore di carta la comunicazione offline attenzione che soprattutto nel B2B funziona moltissimo quindi non tutto online anche offline ok cosa vuol dire offline devo avere la mia lettera di vendita la mia presentazione lo satura del mio modo di vendermi devo avere un box che io veicolo alle aziende ne abbiamo parlato ieri posso fare un box che venga utilizzato anche a freddo sul mio cliente potenziale io il mio cliente potenziale che è identificabile ho alcune aziende che voglio diventino mie clienti che siano in target gli mando del materiale fisico all'interno di un box non gli mando la mail gli mando il materiale fisico in un box testimonianze quanti clienti abbiamo che hanno messo la faccia e hanno rilasciato una testimonianza quella testimonianza lì la mettete in un book io mi ricorderò sempre abbiamo cambiato centralino telefonico il centralino che abbiamo preso in realtà è una collaboration più ampia l'abbiamo preso da un'azienda che si è presentata da noi e ci ha lasciato un catalogo così solo di testimonianze divise per settore divise per problema fatto benissimo divise per settore quindi tu guardavi settore dei servizi avevano proprio un catalogo di testimonianze non avevano il catalogo cioè loro hanno venduto a noi non indicandoci la parte tecnica della situazione quella non l'abbiamo neanche guardata la parte tecnologica evolutissima non l'abbiamo neanche guardata noi abbiamo comprato perché se sto qua mi ha lasciato un catalogo di testimonianze ho visto un sacco di aziende che hanno gli stessi miei problemi cioè mi sono identificato in quelle aziende faccia foto azienda caspita questi qua sono forti acquistato il centralino da loro magazine il tuo media strumento adesso qui li stiamo elencando dovremmo fare un verticalismo su ognuno di questi però il tuo media ti rende autorevole libri avete visto avete ognuno di voi un libro dentro alla vostra alla vostra borsa fuori ne avete degli altri il libro è alla fine un modo sempre per vendersi un modo una modalità che ti fa percepire come autorevole il libro è fondamentale i case history l'altro ieri nella masterclass abbiamo mostrato un'azienda americana la sua pipeline dove indicava in quale momento doveva mostrare il commerciale doveva mostrare al cliente potenziale i case history che i stadi delle guide delle guide che mi possono essere utili per generare dei lead le guide che io posso sfruttare per fare una campagna sponsorizzata su LinkedIn se il mio cliente potenziale sta su LinkedIn e io voglio in qualche modo entrare in relazione con lui per cercare ovviamente alla fine di vendergli qualche cosa posso sfruttare una guida per la lead generation quindi parlando di lead generation ovviamente dobbiamo avere il nostro bel funnel quindi il percorso che io decido di far fare il mio cliente per portarlo dal punto A al punto B punto A cliente potenziale punto B cliente pagante ma ricordiamoci che il funnel è a prescindere non è soltanto per acquisire un cliente che posso avere un funnel per portare una persona a seguire un webinar però devo avere un disegno fatto non devo improvvisare dal momento in cui il cliente scarica una guida se io voglio portarlo a diventare un mio cliente pagante cosa gli faccio fare che documenti vede che meeting devo fare quando devo fare il follow up telefonico devo avere tutto disegnato altrimenti risulta difficile landing page ieri è stata fatta una domanda sito web o landing page per rispondere alla domanda fatta ieri se devo fare una campagna di lead generation spesso noi abbiamo visto nella nostra esperienza quindi ci può essere tranquillamente qualcuno che può affermare il contrario ma mediamente noi abbiamo comunque un osservatorio importante con tante aziende se devo generare un lead da Google piuttosto che da LinkedIn devo avere una landing page una singola pagina web se dirotto il mio utente sul sito web rischio di non riuscire a portare a casa il risultato strategie ovviamente di marketing inbound quindi devo lavorare con LinkedIn devo lavorare con Facebook attenzione che devo verificare se nel mio contesto LinkedIn funziona Facebook funziona io dico sempre testiamo non esiste una regola che vale per tutti io dico che molto probabilmente nel B2B LinkedIn qualche euro che possa essere un buon canale di comunicazione me lo scommetterei però qualcuno potrebbe dire guarda io in realtà ho testato LinkedIn a me funziona più Facebook ci sta tutto però ricordiamoci che le persone sui social stanno stanno lì quindi se io voglio generare dei lead devo cercare di farlo dove le persone stanno marketing outbound quindi nel B2B clienti target potenziali li vado a contattare io one to one gli mando magari un box a freddo e poi faccio un follow up telefonico ovviamente devo avere poi una rete vendita che deve essere selezionata adeguatamente che deve essere formata adeguatamente oggi pomeriggio ci sarà Fabrizio che ci parlerà di questo aspetto ieri abbiamo detto marketing e vendite sono due facce della stessa medaglia noi parliamo marketing 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 ma poi c'è la vendita che deve concretizzare l'opportunità portata del marketing la formazione a distanza un'altra domanda che era stata fatta ieri ma come faccio io a trasferire dei contenuti magari le persone che oggi non erano presenti qui beh se io ho una piattaforma di formazione a distanza dove carico tutti i contenuti che io produco alla fine questi contenuti possono essere visti anche da chi in quel momento non poteva partecipare per esempio ad un evento guardate che fare una piattaforma di formazione a distanza non è complesso ci sono anche delle piattaforme pronte quindi voi dovete noi abitualmente quando facciamo la formazione facciamo la formazione sotto forma di webinar registriamo quell'evento lo mettiamo online e chi non poteva partecipare se lo guarda dopo piano di offerte è fondamentale non devo uscire 365 giorni all'anno con lo stesso prezzo con lo stesso prodotto con la stessa soluzione deve avere un piano di offerte ok noi ogni volta parlavo con Andrea Infusionsoft che noi utilizziamo per la marketing automation loro hanno offerte fuori sempre quando gli chiedi un'offerta tra due giorni scade questa offerta se tu gliela chiedi tra due giorni tra due giorni scade questa offerta tra due giorni tra due giorni c'è sempre un'offerta guarda che oggi scade l'offerta cioè hanno sempre delle offerte aperte però incentivano le persone se tu sai che c'è un'offerta che scade tra due giorni e sei interessato a quella roba agisci le persone ricordatevi che tendono sempre a posticipare ad aspettare se io non gli do un buon motivo per agire entro un certo termine rischio di perdere la vendita quindi le aziende forti sono quelle che hanno sempre fuori offerte ok poi altro aspetto importante ovviamente il tema delle procedure devo avere una procedura sul mondo dei contenuti documenti scritti chi fa cosa chi scrive dove si scrive con che frequenza un'azienda che cresce e che vuole crescere bene non può pensare di non avere delle procedure scritte che possono essere anche semplici però io devo avere dei documenti scritti che mi aiutano perché sono la modalità migliore per fare un certo tipo di attività mi aiutano quando devo inserire una persona nuova le procedure sono fondamentali noi siamo molto su questo a volte pesanti nel dire procedure hai scritto questa roba qua dove c'è scritta dove c'è scritto che il cliente potenziale in quel giorno deve ricevere quel contenuto tutto scritto tutto scritto ovviamente quando parliamo di vendita una procedura commerciale ce la deve avere il mio commerciale deve fare quello che è scritto in procedura poi ricordiamoci come detto due giorni fa in masterclass che la procedura è una procedura che poi deve essere revisionata una procedura non è una procedura per sempre è una procedura che identifica oggi il modo migliore che noi riteniamo di gestire il lead fino a quando non diventa cliente domani mattina quella procedura può cambiare devo scrivere le procedure devo scrivere chi si occupa di gestire il cliente come lo deve gestire cioè chi si occupa poi quando il commerciale ha portato a casa il cliente di gestire questo cliente non può gestirlo a braccio se io ho un'azienda un'azienda impostata bene tutte le persone che gestiscono il cliente lo gestiscono nella stessa modalità che è la modalità migliore che l'azienda ha ritenuto di gestire il cliente abbiamo delle procedure scritte per chi si occupa di gestire i clienti oppure lasciamo che ognuno li gestisca a modo suo questo è un aspetto fondamentale come è fondamentale anche se c'è un aspetto di assistenza l'assistenza al cliente deve essere procedurizzata testimonianze se voglio raccoglierle devo avere una procedura se io penso di riuscire a raccogliere delle testimonianze lasciando che queste vengano chieste dal singolo commerciale quando si ricorda o dal responsabile marketing ogni tanto quando si ricorda di mandare una mail non riuscirò mai ad ottenere le testimonianze mentre io devo avere una procedura scritta che dice nel momento in cui il cliente è stato acquisito dopo dieci giorni dopo venti giorni dopo un mese dipende poi ovviamente dai business di ognuno deve partire una prima mail dove chiedo una testimonianza non arriva la risposta ci deve essere dopo tre giorni una seconda poi una terza se dopo tre mail non mi arriva la testimonianza faccio fare una telefonata dall'ufficio qualità devo avere una procedura altrimenti non arriverà mai la testimonianza noi lavoriamo con aziende che hanno una storia di venti trent'anni o anche più quante testimonianze hai? zero zero non ne hanno nemmeno una ma perché non ne hanno nemmeno una? non perché l'azienda non sia un'azienda capace ma perché se non una procedura che faccia sì che ci sia un sistema se posso anche automatico per raccogliere queste testimonianze non ci arriverò mai poi ovviamente arriviamo a un tasto dolentissimo che è quello del CRM tasto dolente perché lo sappiamo già CRM non c'è se c'è non si usa questo è proprio un aspetto criticissimo di tutte le aziende credetemi che marketing professionale o vendita professionale oggi senza CRM non si fa e chi magari inizialmente un po' scettico quando dopo è entrato nel mood del CRM perché il CRM non è un semplice software ti cambia proprio il modo di ragionare io ricordo un sacco di anni fa le prime volte che usavo il CRM obiettivamente anche io avevo difficoltà perché ti fa cambiare il modo di lavorare poi però quando capisci i vantaggi che ti dà pensi e dici caspita ma come facevo prima senza CRM il CRM ti aiuta sia nelle attività quotidiane ti dice quello che tu devi fare cosa devo fare oggi ma soprattutto funziona nei grandi numeri perché è chiaro che se ho due o tre offerte da gestire 4 o 5 clienti potenziali da gestire il problema più di tanto non si pone ma iniziate a pensare proiettatevi un po' più là sugli anni tante offerte tanti contatti tante persone e come faccio a ricordarmi tutto a memoria è impossibile me lo scrivo nel mio computer portatile nell'excel e se la direzione generale vuole vedere qualcosa se la direzione generale deve fare delle scelte come fa se non c'è un CRM quindi CRM ti aiuta nei to do quotidiani ma anche poi in questa parte fondamentale che è la parte di analisi e reportistica questo è fondamentale perché se io voglio fare una promo se io voglio fare un'attività di cross-sell e dire ma aspetta un attimo ho venduto tutto quello che potevo vendere ai miei clienti beh se io non ho un CRM che con due click mi riesca a dare questa informazione ma come fai tu a capirlo è molto complesso devo andare in amministrazione farmi dare un excel rompo le scatole non ho tempo è un casino totale io devo avere un sistema che in pochi click queste informazioni me le dia quindi siamo arrivati a conclusione e quindi ecco il piano marketing in una slide fatevi la foto io mi sposto non so dove andare perché questo scattate io sto in mezzo così questo è quello che un'azienda soprattutto una piccola e media impresa quindi lo sottolineo perché magari uno dice ma sì questa roba qua questa roba di grandi aziende no 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 questo è un qualcosa che deve fare una piccola e media impresa questo è fare marketing se voi fino ad oggi pensavate che fare marketing sia beh ho il blog due siti due mail ecco il marketing della mia azienda in realtà il film è un attimino diverso un attimino più strutturato se vuoi andare forte devi fare questa roba qua però come dicevo all'inizio e concludo non sbagliate nel pensare di dover arrivare subito a questo obiettivo perché altrimenti non iniziate nemmeno partite da alcune cose partite da parti più strategiche ovviamente perché la lettera dell'alfabeto fatene alcune e vedrete che quando vedete i primi risultati dite caspita sono andato a quell'evento là mi hanno detto ste robe ma effettivamente funzionano dopo è più semplice portare avanti tutta sta roba qua e vedrete che se la fate tutta la concorrenza non vi sta dietro perché la differenza quando un'azienda fa tutta sta roba qua si vede e come grazie grazie grazie